Simulare i giovani verso un sempre maggior interesse allo studio e alla formazione, premiare chi, con passione e impegno, si dedica ad accrescere le proprie conoscenze. L'amministrazione comunale di Polla, insieme alla Fondazione Montepruno e la Banca Montepruno, da sempre vicini ai giovani, sostenendoli nei loro percorsi di crescita personale, sia dal punto di vista culturale che artistico, senza tralasciare l'aspetto educativo, nella giornata di ieri hanno premiato 11 ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado di Polla, che durante il percorso di studio si sono particolarmente distinti per l'impegno profuso. L'iniziativa, partita dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso, che ha voluto così riprendere un percorso già da tempo avviato a favore degli studenti, ha visto il sostegno alla collaborazione della Fondazione Montepruno, presieduta da Michele Albanese e dalla Banca Montepruno, per il conferimento delle borse di studio assegnate a 5 studenti meritevoli frequentanti l'Istituto di Istruzione Superiore di Polla e 6 smartwatch consegnate ad altrettanti studenti delle scuole secondarie di primo grado. 11 studenti e studentesse premiate per gli ottimi risultati conseguiti durante il percorso di studio, che presso l'auditorio Morocco Giuliano a Polla hanno ricevuto i riconoscimenti in una cerimonia a cui hanno preso parte, oltre alla dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Polla, Sabrina Rega, anche del sindaco Massimo Loviso, dell'assessore all'istruzione Federica Mignoli e del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, che ha voluto sottolineare come le borse di studio e gli attestati consegnati ai ragazzi rappresentano solo un piccolo gesto dimostrativo che racchiude però un grande segno di valore al merito. Oggi, ha sottolineato nel suo intervento il direttore albanese, è un simbolo, una dimostrazione che la meritocrazia esiste. Non ci sono altre strade se non quella del merito. È il momento di lanciare messaggi positivi ai nostri giovani. Invito i ragazzi, quindi, ha dichiarato rivolgendosi in particolare agli studenti, a continuare a sognare senza mai perdere la speranza per il domani e per quello che verrà. Oggi la nostra fondazione, unitamente alla Banca Montepruno, mette un altro seme all'interno del territorio per valorizzare i giovani che si sono distinti nel loro percorso di studio. Questa, ha concluso, non è la prima iniziativa della specie, e non sarà l'ultima perché costruire futuro è un nostro compito e un nostro dovere. L'evento, denominato valore al merito, si è caratterizzato proprio con la premiazione dei ragazzi. A risultare beneficiari delle borse di studio per i loro meriti scolastici, nel corso della cerimonia moderata dal giornalista Rocco Colombo, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, Gerardo Villari, Antonio Dascoli, Antonio Vincenzo, Graziano Pio Cancro, Daniele Liguori. Ad essere premiati per la scuola secondaria di primo grado, gli alunni Andrea Del Pezzo, Flavio Carrino, Marco Vincenzo, Tony D'Amato, Alessandra Di Girolamo, Francesca Donnici.